Cari amici di Motori Online, il marchio Porsche vuol dire passione, passione per vetture veramente speciali ma anche aggregazione, perché comprare una vettura di Stoccarda non vuol dire soltanto portare a casa un vero e proprio gioiello ma vuol dire anche condividere la passione con altri proprietari Porsche In questo c'è il Porsche Chiclab, un'avventura che porta davanti da 15 anni Qui con me, Wenceslas Monzini, il PR Manager di Porsche Italia Sì, sono 15 anni che ormai esiste questo Porsche Chiclab è una delle due associazioni che ci sono oggi in Italia abbiamo lo Chiclab, abbiamo il Golf Club e che permettono a clienti, clienti che non sono solo quelli che vedete dietro di sportive tipo 911 piuttosto che 7-18 ma sono anche clienti McCann e Cayenne che vengono a divertirsi durante un weekend dove si scia ma si prova anche la propria auto in pista su un piazzale di neve La passione nel nostro marchio credo che sia il motore abbiamo tantissimi clienti che vengono ad ogni tappa dello Chiclab il numero di clienti sta crescendo e siamo molto contenti ormai dura da 15 anni Sono varie tappe in giro per l'Italia? Ci sono 5 tappe in Italia la stagione 2018-2019 ha iniziato l'anno scorso a dicembre e finirà a fine marzo c'è quasi una tappa al mese Fantastico, adesso andiamo a vedere come si divertono gli altri in pista Andiamo, dai! Ciao! 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 Ciao!